10 maratoni in 10 giorni, nona edizione per la Orta 10 in 10, organizzata a Gozzano dal Club Super Marathon Italia. Una sfida che quest'anno ha coinvolto 274 iscritti e che si concluderà la vigilia di Ferragosto. Già dalle prime edizioni c'erano circa 200 partecipanti a gara, adesso sono anche di più e soprattutto è aumentata la qualità, perché vengono soprattutto dall'estero, oggi abbiamo qui 16 nazioni rappresentate tra cui grandi campioni. È un'esperienza umana oltre che è una sfida anche per i grandi campioni. Per molti è difficile ripetere sempre lo stesso percorso perché a livello di testa potrebbe essere ripetitivo, comunque è un percorso molto tecnico perché ha salite e discese ma anche sterrato, asfalto, quindi cambia spesso il terreno. Quindi è una gara impegnativa dal punto di vista tecnico ma anche mentale. Per me questa è la prima volta, mi piacciono le sfide e questa è una delle sfide difficili a cui ho partecipato. Quinta volta che vengo, la prima volta nel 2017 e ho stabilito il record mondiale delle 10 maratoni in 10 giorni. È un evento incredibile, l'atmosfera, la gente, l'organizzazione, è tutto incredibile. Angelo Squadrone, ufficiale dei Carabinieri in pensione classe 1929, ha cominciato a correre nel 1956 e non ha intenzione di smettere. A giugno ho fatto i campionati italiani di 800 metri, 1500 e 5000, l'ho vinto tutti quanti. Ormai tutte le vengo tutte, non perché non ho avversari. Ormai tutte le vengo tutte, non ho avversari.